Patrizia, anche tu hai deciso di fare questo corso, due parole anche da te, dici perché hai iniziato. Allora, io ho scelto di fare questo corso, seguivo Vittoria già da tempo su Facebook e mi è sembrato e ho potuto constatare che è un corso completo che ti permette di imparare da zero anche tecniche nuove per chi ha già magari delle nozioni di suo e per approfondirle e per migliorarsi. Grazie mille. Grazie Patrizia, un grosso in bocca al lupo alla tua attività.